Oh ma salve appassionati di tecnologia, eccoci qua con un nuovo video, io sono Raff e voi siete sul canale Vincenzo Caputo quest'oggi vi portiamo un prodotto che avete già visto su questo canale, ossia le strisce ledre censite da Luigi della WITIN quest'oggi invece vi porto una catena luminosa ideale per Natale ed effettivamente si avvicina il periodo più bello dell'anno e quindi quale idea migliore se non quella di rendere anche le luci smart gestibili tranquillamente da telefono, ma andiamo a vedere meglio da vicino di che cosa si tratta subito dopo la sigla le luci WITIN sono un ottimo rapporto qualità prezzo ma soprattutto hanno una luminosità eccellente ma la cosa in assoluto che ci piace tantissimo è la possibilità che si ha di configurarla attraverso l'app Tuya Smart quindi questo rende queste luci smart ed utilizzabili in tantissime situazioni in confezione ci arrivano ben protette ma soprattutto ben legate tra di loro quindi questo fa in modo che non si vadano ad ingarbugliare quando le spacchettate tipico di tante catene luminose in particolare noi le andremo a provare e a posizionare in diverse luci vi faccio vedere un pochettino quali sono le funzionalità principali di queste luci e che cosa si può fare esattamente un po come avete visto sulla striscia utilizzata da Luigi queste hanno la stessa funzionalità quindi attraverso l'app ben realizzata ci sono già diversi preset che potete andare a sfruttare oppure potete crearne di nuovi anche in base a come le andate a posizionare se decidete di metterle intorno ad un albero se decidete di metterlo sul balcone perché sono anche per esterno e funzionano con un semplice alimentatore da 5 volt non compreso in dotazione in dotazione ci arriva anche un telecomando quindi se decidete di non collegarlo perché non non volete farlo il collegamento tramite wifi bluetooth al telefono potete utilizzare direttamente il telecomando in dotazione fornito con una pila da 20 25 ma non si fermano qui le cose belle di questa striscia luminosa perché potete gestirla semplicemente attraverso il tasto funzione quello vicino all'alimentatore dove avete la possibilità di accendere e spegnere impostare i diversi preset con una pressione continua del tasto oppure andare ad impostare con la versione musica quindi le luci andranno al ritmo di musica potete posizionarle intorno a una tv potete posizionarle su un bar potete posizionare un po in diversi posti io per esempio l'ho utilizzati con un power bank quindi attraverso il power bank le sono andato ad alimentare e ho fatto già tutti i test che che volevo fare l'aggiunta è molto semplice una volta scaricata l'app di tuya smart basta tenere acceso il pulsante per 5 secondi e andrà in modalità associazione cioè le luci iniziano a lampeggiare di colore rosso questa catena luminosa è molto bella e mette tantissima allegria in casa soprattutto perché vi ha la possibilità di realizzare tanti preset tante soluzioni quindi sarete voi a scegliere inoltre volendo potete collegarle sempre attraverso l'app tuya e attraverso le varie skill collegarle con gli assistenti vocali più famosi dall'assistente di amazon fino a quello di google e così via quindi per comandare in remoto con la vostra voce benissimo come sempre se vi è piaciuto questo video io vi chiedo di lasciare un like fateci sapere se vi piace questo contenuto qui sotto nei commenti per portarvene altri se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale se lo fate siete dei grandi vi lasciamo anche il link in descrizione per l'acquisto a questo prodotto che in questo periodo è in offerta quindi magari vediamo un po' se vi rilasciamo anche un coupon sconto non ci resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video ciao